Sei pronto, dimmi? Ah, c'è la stagione 4 di Fortnite Ah, non lo sapevo E si possono usare i superpoteri Ah, non lo sapevo E ci sono i supereroi della Marvel Ah, non lo sapevo E nuovi punti di... E il nuovo... Ecco, cosa aspettavi a dire? Che iniziamo? Quanta roba, signori, quanta roba Signori, acquistiamo il pass battaglia Cioè, ok Allora, a parte, fanno spiegatato la Marvel Sì, voglio usare Thor Voglio usare Thor Oddio, so che siamo in ritardo di tipo un giorno Ma va bene così Ce l'avrete visto da tipo tutti, chiunque Ma va bene, riscatta Cioè, oddio, c'è Iron Man Non ci sarà mai nella vita Spider-Man Perché non ci sarà mai nella vita Però vabbè, c'è Iron Man Fatemi usare Thor Allora, volevo dare un'occhiata veloce veloce al pass Oddio, che carino Un'occhiata veloce al pass battaglia Perché so che hanno giunto un sacco di cose E io voglio grutto Cioè, proprio a mani basse voglio grutto E tra l'altro mi dispiace che non ci sia Spider-Man Peccato, peccato Ma chi c'è a livello 100? Oddio, Iron Man è il 93 Quanto è bello Quanto è bello Se mi vedete a livello 10 Perché sì, sono stato hackerato da un tizio Molti di voi me l'hanno scritto nei commenti Se sapete come farlo andare via Scrivetemelo nei commenti Anche perché ho cambiato passo Arma per ora Per ora Non ha funzionato Vabbè No, che figata la lobby No, fuori di testa E se vado qua No, che figo Bellissimo Oddio, bellissimo Oddio, bellissimo Ma ci arrivo secondo voi all'isola della battaglia volando No E hanno aggiunto anche nuovi Point of interest Come si dice in inglese Oddio, cos'è sta cosa dei pesci? Oddio, quanti pesci? Oddio, oddio che succede Vabbè Sembra una stagione promettente Allora Pantano, foresta L'autorità c'è ancora Io me ne andrei qua Che ho un nuovo posticino Sembra carino Però questo magari è più carino Vabbè Andiamo lì Ok, andiamo qui Vediamo che magari Oh, ci sono degli aerei Ma si può andare secondo voi su questi aerei? Non lo so Fatemelo sapere voi nei commenti Oh, anche qui c'è un posticino Vabbè In caso ci esploriamo un paio di roba In questo video esploriamo qualche segretuccio Qualcosa di incredibile Tipo qua ci sono dei crateri fuori di testa Ok No, guardate che figata Ma io voglio prendere i superpoteri Come faccio a prendere i superpoteri? Come faccio a prendere i superpoteri? Ok Il pompa quello scrauso Vabbè, ce lo facciamo andare bene Devo alzare un po' il volume Ah, già che si possono anche guidare le macchie Fì, ma io non gioco a Fortnite da un casino di tempo Cioè, ci sono stati un casino di aggiornamenti Non gioco da tantissimo Ma la cesta? Oh, dove è la cesta? Ah, è qua Ok Uh, cecchino Ma è quello... C'è sempre stato questo cecchino? Boh, non mi ricordo Non mi ricordo Ma fatemi vedere questi tizi Che sembrano molto interessanti Cosa siete? Io sono Thor E io ho dei fogni Ma guardate che figata Oh, c'è un Thor Oh, cosa? No, no, no Che cos'è? Oh, 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 oh Sono pazzo, sono pazzo Questo... Ok, va bene Vola Ah, vola proprio davvero Ah Ok Particolare Molto particolare Bello sto posto Però io voglio esplorare tutto Voglio vedere qualche... Qualche... Ok Qualche segretuccio particolare No, oddio C'è la nuova... Oddio L'hanno rimesso Che figo Quello lì mi piaceva un botto Però non lo prenderò C'ho già il cecco Vai, vogliamo via Da qualche parte Verso l'ignoto Non lo so Cosa sta succedendo? Vabbè, signori stupendi Sti robot Stupendi Però volevo andare a... Boh, non lo so Cercare qualche posto più interessante Cioè, chi è che lascerebbe un preribapisce indietro? No, ma signori Ma guardate all'autorità È tipo tutto in disuso Tutto dismesso Ma va... Ma che figata Cioè, quindi tipo... No, non c'è più neanche il bunker No Cioè, quindi tipo le ombre Tutte quelle robe lì Basta, tutto morto Tutto finito Oh, no Oddio, che schifo Ci sono le ragnatele Cioè, quindi basta Ormai qual è la storyline Supereroi e basta Oh, c'è un tizio Che pesca Muori Muori Cosa peschi? Però ha pescato un cieco Un flopper bene Un cieco e il flopper bene Sotto 20 Che schifo sto pompa Che schifo Morto Godo Godo Oddio, c'è il pompa nel danno Oddio Ah, no, non è il pompa Oddio No, non ci credo No No, fuori di testa Fuori di testa Sto pompa Non c'ha senso Ve lo dico tranquillamente Che non c'ha senso Come non ha senso Che mi prendo un altro flopper Cos'è? No No, vabbè No, basta Basta Perché devono rimettere queste armi? Cioè, bene Bene che rimetto queste armi Però Oddio Non ci credo mai No, ora andiamo a fare stragi Guardate che setup che abbiamo No, vabbè No, vabbè Se riuscissi a guidare Magari Io voglio trovare Superpoteri Ma non so come si fa E che cos'era quel pesce Che ho visto saltare Oh mio Dio Cosa sta succedendo Quante novità Yeah Guardate lì un tizio Guardate lì un tizio No È un altro Thor Sono io il Thor originale Biacci Sono il Thor originale Intanto ricarichiamo Tutto carico Sì, tutto carico Eh, ok Scusa, scusa, scusa Hai vinto tu Va bene Sei tu il Thor originale Ok, ok Allora Diciamo che sono un attimino scappato Giusto per rifillarci No Qua hanno tolto le ceste Dai, era così bello Il triplo Lo spot con le triplacce Vabbè, avete capito Mi prendo gli scudini Tech Dai, dai, dai Che ci dobbiamo rifillare Dobbiamo scoprire Al Tutto Le Dobbiamo scoprire Il più possibile Di cose nuove Cose incredibili So che ci sono Tipo anche le armi laser Una roba del genere Boh, non lo so Un botto di robe strane Speriamo di non morire adesso Mentre mi sto fungando Cioè che poi Io non gioco da un botto Sarò stortissimo Che già di norma Sono stortino Però adesso sarò stortissimo Vai, passiamo qua sopra Voglio Voglio farmi sto tipo Dai, muori 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 No, che me la ruba Sì, ok Ruba C'è mo C'è mo Lady Valentina Un saluto a Lady Valentina Mi dispiace per La sua morte Ok Ok Ci ho provato Va bene Ci ho provato Ci ho provato Dai che questo pompa È fortissimo Addio Sì Calma, calma Che ce ne si è già fatti due Bene, bene, bene Sta arrivando la safe No, non ancora Va bene, va bene Guardate quanta roba Perfetto Ma credo che sto pompa Si possa Quello che ho io Si possa trovare solo pescando Non lo so Scrivetemelo voi nei commenti Nel dubbio Abbiamo tre kill E siamo in 23 Perfetto Vorrei Ok, infatti ho visto un tipo Con la coda dell'occhio Ci ho provato Ci ho provato Build fight negli alberi Proprio anche No 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 Perché mi vuoi far cadere Perché sei un pezzo di fango Muori Muori No, non mi ha sparato Non mi ha sparedo Non mi ha sparedo Sì Oddi No, bellissime Bellissime le bouncing Signori Bellissime Allora Dammi il pozzuolo Grazie C'è la safe Devo correre Devo correre C'è anche la mitra No, c'era già la mitra Silenziata Signori C'è l'airdrop Riperoni per l'airdrop Sì, riperoni per l'airdrop No, bellissime le bounce Tac, tac Ok, devo ricordarmi come metterla La veloce Perché è un botto Dato che non c'erano più le trappole Stup Allora, come stagione Sembra Sembrerebbe Che stia Iniziando col piede giusto Mettiamola così Poi non so È tutto da vedere È tutto da vedere Diciamo che quando arriverà Iron Man Che potrò usarlo Sarà ancora più carina come stagione Ma ci penseremo dopo Per ora Pensiamo a vincere sta partita 4 kill 17 persone vive Tra l'altro mi stavo chiedendo Spero che l'hacker Non tipo Mi possa comprare i V-Bucks Una roba del genere In caso scrivetemelo voi Nei commenti Che siete più esperti di me Però per il momento Non ci voglio pensare Altrimenti mi deconcentro E perdiamo malamente È morto il tizio Sì È morto il tizio Dov'è l'altro tizio Eccolo lì Sono tutti tizi Sono tutti tizi Ci ho provato Ci ho provato Ci ho provato Fermi 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 Che devo ricaricare Fermi Che devo ricaricare Il check Ok Sì 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 Così bene Così bene Signor Giordini Addio Bitch Perfetto Rubiamogli tutto Grazie Grazie Ciao Ciao Grazie mille Grazie mille È stato un piacere E mi do due scudini Tanto per Allora lì c'è un botto di gente Proprio c'è tipo il bordello Oh cosa mi spari Cosa mi spari Ecco bravo Godo Godo è stato strapicchiato Stragodo Ok guardatelo Ok guardatelo lì Mega check in Mega check in No me l'ha rubato Cioè che in realtà Non l'ho rubato Però Però Magari un colpo in più Non ha funzionato Non ha funzionato Quindi signori Voglio provare a usare Questi Come i vecchi tempi Oh mio dio Oggi Bitches Ok c'è un tizio Stracattivo No quello è stracattivo Però anche è strabianco È stracattivo Ma è strabianco Muori Sì 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 Che bello signori No ma con queste armi È il delirio È il delirio E questo C'è schifo Mega build fight Dai 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 Questo non è forte Siamo più forti noi Però Dato che ci farà cadere Perché è un infamotto Ce ne andiamo qui Mega check in Che c'è al volo No No dove è andato Non lo so Non lo so Ma solo a me Sembra tutto più scuro In ste nuove mappe Cioè ste nuove mappe In ste nuova stagione Non so mi sa di Boh Mi sembra tutto più scuro Più Più complicato Guardate lì il tizio No ma mi check in Andà dietro Eh no no Fermi fermi Non facciamo gli errori Che poi finisce in tragedia Guardalo lì Mega check in Sì mega check in Mega check in Mega check in Mega check in 110 È scarsissimo Signori Quello lì è scarsissimo Ah tra l'altro So anche che c'è Sì 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 No Dicevo So anche che c'è Il pesce di mida Totalmente a caso Che bo Mi sa Mi sa che tipo Ti rende oro Tutti gli oggetti Una roba del genere Figata totale Dai zì Mori Sei mida Devi morire Cioè non fai più parte Di questa stagione Addio Dai Cioè se lo puscio Oh l'ho ucciso Sì Perfetto Ok Siamo in due 1v1 Bene Che bene Spero sia scarso Perché Ma lo scar c'è ancora Perché non ho ancora visto scar Oddio Oddio Che cos'è Che cos'è il fucile Della Stark 37 Vai preso Va bene così Non so cosa sia Ma va bene così È bellissimo Basta Bellissimo Fina Non c'è niente da dire No C'è quel tipo No Dai Stavo provando il fucile Sei un infame Sei uno schifoso No Non ho preso Dai che fastidioso Non ho preso neanche la roba Dai Non ho preso gli scudini Pur di provare il fucile Ma muori Ne ho perso Vabbè dai Signori la contiamo Come una vittoria La contiamo Come una victory No Sconfitta Addio Addio No Dai Master King Master King Cosa esulti Vabbè Signori Era vinta Era palesemente vinta Ma ha voluto E che bello Il fucile Della Stark Usciamo Dai Vabbè Prima partita Vittoria Accontiamo Come una vittoria L'avrei palesemente Distrutto Sto tipo Che fastidio Vabbè Vediamo che premi Ci è andato Vediamo che roba Ci è andato Comunque Bello Il fucile Della Stark Non so Come si trova Scrivetelo Nei commenti Bellissimo Quindi amici Spero che questo video Vi sia piaciuto Vi ringrazio per l'avviso E vi do appuntamento Romagna A solito Rovero Due Un quarto Con un nuovo video Ciao Ciao Abbiamo usato Thor Su Fort Fuori Test Fuori Test 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 Grazie a tutti.